L'Oriquarto è una cantina storica fondata nel 1847 dai duchi francesi della Roche nel cuore della Puglia tra il tavoliera e le pendici del Gargano. I francesi investirono in questo grande latifondo che si estendeva per oltre 4.000 ettari dei quali 2.500 coltivati al vigneto. L'Oriquarto nel corso del tempo ha consolidato sempre di più questa strategia focalizzandosi sulla produzione di vini di grandissima qualità ottenuti di uve tipiche e autoctone come il primitivo, il nero di Troia, il greco e il negro amaro. L'Oriquarto è una cartina privata della famiglia Tarantini che ha incarnato i valori e il forte legame con il territorio grazie alla valorizzazione di un vitigno storico dal quale si ottiene un grandissimo vino rosso, il nero di Troia. Lì impiantarono un vitigno storico essendo la terra di colore scuro lo chiamarono nero di Troia. Un vino rosso di grande qualità, di grande spessore dal palato pieno, rotondo, piacevole. grazie soprattutto alla collaborazione con Coppa. Distribuiamo i nostri vini attraverso il canale degli Ipercoppa sulla costiera adriatica. Un caro saluto dal tavoliere delle Puglie a tutti voi.